Procura 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 demodereare, parola sua tirania, procura demodereare, procura demodereare. Procura demodereare, parola sua tirania, procura demodereare. Procura demodereare, parola sua tirania, procura demodereare. Procura demodereare, parola sua tirania, procura demodereare. vedete poi è tipicamente estivo. Allora le penne, porro e lamprodotto sono non particolarmente adatte per questo periodo, però sono un prodotto del nostro territorio, questo sicuramente si. Fatiamo e ho cucinato. Il filetto di maiale è una ricetta che ho inventato io, poi magari qualcun altro l'ha fatta. Comunque per ogni emergenza c'è il tagliere per il giro, tiriamo la garaccia. Cavolo, due o cinque. Due freddi. Oppure c'è il tagliere, oppure c'è il ragù, il pomodoro, oppure anche un paio di pezzi durante la cinema. Ma che peggio? Quelli sono, sai che l'ho portato da cazzo? Quelli sono segreti. Ma che peggio è un paio. I saletti sappertino, gli assoli a memoria. Grazie. 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 Grazie.